A Sondrio lo stabile dell'ex provveditorato agli studi in Vianazzario Sauro e l'ex mensa sociale di Lungo Malero Diaz. A Tirano il capannone l'ex cartiera. A Dardeno l'albergo Isola Masino. In provincia di Lecco a Bellano l'ex cotonificio Cantoni. Immobili in attesa di rilancio che rientrano tra quelli selezionati da Regione Lombardia nell'ambito di Attract, Attract, programma dedicato all'attrazione di investimenti promosso in collaborazione con Union Camera Lombardia e il supporto di Promos. Un percorso unico in Italia, spiega l'assessore regionale delle attività produttive Mauro Parolini, che stiamo sostenendo con un investimento di 10 milioni di euro. Le aree di smesse individuate sono distribuite su 56 comuni lombardi, hanno un'estensione complessiva di quasi 2 milioni e 800 mila metri quadrati. Le 113 opportunità insediative sono in 76 casi proprietà acquisite da privati, mentre 37 sono in capo ad amministrazioni pubbliche. Il prossimo passo sarà proprio la firma di un vero e proprio contratto, un accordo di attrattività tra la Regione e ogni comune coinvolto. Ma in concreto, che cosa prevede il programma? Ci sarà in primo luogo l'impegno di accompagnare gli investitori italiani ed esteri con interventi di semplificazione burocratica, ma anche incentivi economici e fiscali, come ad esempio la riduzione di IMU, TARI, TASI e degli oneri di urbanizzazione. Le modalità di assegnazione delle risorse destinate ai comuni, fino a 100 mila euro per ogni progetto, tranno conto di criteri proporzionali in base al numero degli abitanti e della valutazione degli interventi di incentivazione fiscale economica, delle caratteristiche di qualità e accessibilità delle aree. Per questi immobili, spesso ricchi di storia e di storie, collocati nei centri urbani, l'occasione, si spera, di un rilancio che li riporta ad essere protagonisti della vita economica e sociale. Basti pensare all'ex provveditorato di Sondrio, il palazzo di Viannazzario Sauro, sul quale aveva posato gli occhi anche un colosso europeo del settore terza età.